5.000 euro per porta a Crucifera e 3.000 euro per porta a Santa Andrea, queste le sanzioni con le quali la magistratura della giostra del Saracino ha punito i comportamenti dei quarteristi in piazza durante l'ultima edizione della manifestazione, quella dello scorso 2 settembre. Il quartiere Rosso Verde è stato condannato infatti a non ricevere un terzo dei circa 15.000 euro che ogni anno l'istituzione giostra versa nelle casse dei quartieri a causa delle rimostranze subito dopo la carriera di spareggio di Vanneschi nei confronti del maestro di campo Ferdinando Lisandrelli, ritenute ben oltre i limiti del consentito. Al quartiere Bianco Verde, i cui figuranti disturbarono la carriera dei lecicerchi, ha decurtato invece un quinto del contributo annuale. Nessuna misura è stata presa nei confronti dei rettori Maurizio Carboni ed Andrea Fazzuoli, solo deplorazioni per i capitani Mauro Donigio e Rodolfo Raffelli e per il maestro d'arme Bianco Verde Saverio Crestini, una giostra di squalifica invece per il collega di porta a Crucifera Roberto Bacci che paga per la recidiva. Stangata infine anche per due figuranti bianco-verdi, uno è stato squalificato per cinque giostre e due invece per tre. Deplorazioni anche per un figurante di porta del foro, una giostra di stop, inoltre per un altro di porta Santo Spirito. Le decisioni della magistratura della giostra sulla relazione del maestro di campo sono state adottate e notificate agli interessati in questi giorni. Quartieri e figuranti adesso si potranno rivolgere contro multe squalifiche all'ultimo grado del giudizio giostresco e il gran giurì guidato da Anna Maria Loprete.